Mi ha colpito tantissimo quello che hai detto l'altro giorno in Salone Comunale e io ti vorrei chiedere, hai detto che questa piazza è un luogo laico e è stato intaccato invece nella giornata del ricordo da una manifestazione organizzata da Casa Pound. Io ti chiedo perché questa piazza deve essere considerata un luogo laico e dov'è il confine che porta una manifestazione a intaccare le altre persone e non essere una manifestazione dell'espressione di libertà. È un discorso un attimo complesso. C'è un aneddoto che mi piace ricordare. Vittorio Foa, che era un partigiano resistente, venne eletto deputato e incontrò in Parlamento Mirko Tremaglia che aveva fatto il Repubblichino, Mirko Tremaglia gli andò a dire incredibile che noi due che siamo stati dalla parte opposta ci ritroviamo insieme in Parlamento. Vittorio Foa lo guardò e disse sì, è vero, noi siamo qui insieme perché abbiamo vinto noi. Se avessero vinto i tuoi io mi troverei probabilmente al confino in carcere. Ecco, il bello della resistenza è stata questa, che comunque ha dato la democrazia e la libertà, ma ha dei luoghi che sono dei veri templi della resistenza. Sono i luoghi sacri per me, di quella sacralità laica. Questa piazza è uno di quelli per due ragioni. Perché qui sono stati appesi i corpi dei partigiani della banda Corbari, cioè a quei lampioni in cui ancora ci sono i fasci. Proprio per ricordare quello che è stato il fascismo e per disprezzarlo, i fascisti esposero i corpi di Iris Versari, di Sirio Corbari, di Casadai e di Spazzoli, dopo averli ammazzati a Castrocaro. Ecco, in quel momento questo luogo diventa un simbolo. Forlì è una città che ha la medaglia d'argento al valore militare per la resistenza. Quello è il sacrario dei morti per la resistenza. Che Casa Pound si è venuta qui davanti a manifestare è uno sfregio a quei morti. Perché Casa Pound si rifà a quell'ideologia che quei morti ha fatto. Aggiungo un'altra cosa. Casa Pound manifestava per ricordare i morti delle foibe. I morti delle foibe è una pagina tremenda della storia del nostro paese. Ma c'è un problema. Il nostro paese non ha fatto i conti con quella storia. Noi abbiamo un pezzo di quello che è successo in Jugoslavia che ricordiamo che sono le foibe. Ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto noi italiani. Noi italiani abbiamo fatto dieci volte almeno i morti che ci furono nel periodo dopo la sconfitta dei nazifascisti. Noi non abbiamo mai chiesto scusa al popolo jugoslavo per il campo di concentramento di arbe che aveva una mortalità analoga a quella del campo di sterminio di Buchenwald. Quindi un'offesa anche perché questo è un luogo dove c'è una forte odore di ricordo, una forte rimembranza e quindi per questo ancora più grave. Sì, insomma, io non sono credente. Non andrei mai a fare una manifestazione contro la religione cattolica dentro una chiesa. Oltretutto possiamo discutere sul fatto che io abbia ragione o meno essere anticlericale. Sono certo di una cosa, ho ragione ad essere antifascista perché il fascismo, anzi, voglio ricordare un altro aspetto. Il fascismo è stata un'associazione a delinquere, ma non sono io a dirlo. È Mussolini che nel 1925 si presenta in Parlamento per commentare l'omicidio di Matteotti, di Giacomo Matteotti, deputato socialista che venne assassinato dai fascisti molto probabilmente per un discorso che aveva fatto che non era piaciuto. E a un certo punto Mussolini dice se il fascismo è un'associazione a delinquere, io di quella associazione a delinquere sono il capo e quindi ne devo rispondere. La storia di questo ha detto che il fascismo è stata un'associazione a delinquere di cui Mussolini era il capo. Una delle cause di questo lassismo, di questo poco rispetto per la nostra Costituzione e per la nostra resistenza, però bisogna dirlo, è in quelli che facendo parte della sinistra non hanno avuto il coraggio di riaffermare i valori della resistenza.